Oltre i confine, una nuova puntata, una puntata con un ospite, oserei dire d'eccezione, perché più che un ospite per me può essere un maestro. Dillo a Beppe, Beppe Rota, un grande della televisione, un grande dello sport, un grande della sua passione, adesso lo conosciamo, lo conosciamo a 360 gradi. Innanzitutto grazie Giuseppe, detto Beppe, di essere qui da noi, grazie perché c'è anche un'amicizia che torna indietro negli anni, per cui ho chiesto e ho desiderato averti proprio come ospite. Allora, cominciamo col conoscere il Beppe Rota. Beppe Rota, Sovere uguale? Sovere Bergamo, uguale, hai già detto quasi tutto. Beppe nasce nel 71 con le sue passioni, due grandi passioni, l'atletica e il calcio. E poi diventa collezionista, collezionista di foto con i personaggi. Infatti proprio pochi giorni fa ho incontrato Alberto Cova e gli ho detto ti ricordi Alberto quando scattavo delle foto con te ancora nei prati della Spessa, cross country, quando lui correva nella propatria. E niente, gli ho mostrato appunto queste foto. È stato un album di ricordi. di un album e mi ha fatto una promessa che presto sarà nel mio studio e si racconterà alla gente, per cui tanta roba insomma. Allora andiamo per ordine. Nascita nel 71, crescita ovviamente come tutte le persone normali, elementari, asilo elementari, no, scuola dell'infanzia, elementari, medie. E poi? Poi ragioneria, ma sinceramente non ho ragioneria all'overe, non ho trovato il mio habitat e sono venuto in quel di Clusone, visto che sono nato a Clusone, sono andato alle figlie della Sapienza, mi sono trovato non benissimo ancora di più. E poi sono stati degli anni molto belli, degli anni dove facevo, digitavo il numero 0346 20 280, rispondeva a quel telefono Felis Damiani. e stavo io collegato con questa radiolina mitica, sempre delle idee di che sai erano i primi innamoramenti, e passavo tutte le sere così. Sono dei ricordi importanti, dei ricordi che non si scordano, e poi subito dopo ho iniziato la mia passione, diventata poi il lavoro, la telecamera. Ecco, allora, la telecamera, la telecamera magari prima molto oggi obsoleta e molto pesante, oggi un tantinino più, diciamo tranquilla, un tantinino più elastica e anche molto meno pesante in chilogrammi o in grammi. E subito la collaborazione con? Ho iniziato sinceramente da Antenna 2, e mi ricordo quando Antenna 2 aveva la sede vicino alla scuola che io frequentavo, e mia madre, visto che non avevo la patente, mi ha portato, la prima volta ho conosciuto Vladimir, e mi ricordo un fatto che gli ho portato una ripresa, e gli dice, ma scusa, ma qui è ripreso a cavalletto o a mano libra? No, a mano libra, complimenti perché sei molto statico. E da lì poi è iniziata appunto questa collaborazione, è bello come dimenticare le trasmissioni che abbiamo fatto con Don Martino, non si possono dimenticare. Tanti aneddoti insieme, è nata questa amicizia, però questa amicizia continua perché da tanti anni che sono amico con Angelo Savoldelli, con Felice, con Vladimir e tutto lo staff, e oggi avermi invitato penso che sia un coronamento di un sogno. Io non posso dire di no. La nostra la posso considerare un'amicizia veramente valida. So per certo che anche per ragioni di conoscenza diretta o di lavoro sei ugualmente amico di mio figlio in quel di Piangagliano, e questo me ne rendo, me ne rendo, non dico merito io, me ne rendo merito a te perché c'è anche mio figlio che mi dice, ah le stacche rota, ah la calorchetta si sta maga perché la taglia premura. Ultima volta ero un microfono e questo fa parte del nostro o del mio lavoro. Torniamo indietro un attimino. Prime collaborazioni con Antenna 2, l'idea? Faccio uno studio fotografico, faccio uno studio di riprese, intraprendo con questa attività o vado a fare il Magut? No, ho detto inizialmente, grazie appunto loro, l'entusiasmo che mi hanno dato, ho iniziato. Poi le prime riprese, sto pensando alle prime riprese che ho fatto, andavo in giro con mio cugino per il paese a chiedere cosa ne pensavano del carnevale, delle domande un po' particolari e così via. E a un certo punto la voglia di rivedere questi filmati. Una volta rivisti l'entusiasmo, l'entusiasmo mi ricordo un anno addirittura, poi è arrivato anche il servizio militare, stavo tagliando i capelli perché adesso non li taglio più. Adesso non li taglio più, è arrivata una persona mentre stavo tagliando, guarda si sposa mia figlia, non sapevo che eri a casa. Ho detto, guarda non è un problema, blocchiamo il parrucchi, adesso sono andato a fare un matrimonio. Da lì poi è nata tutto questo entusiasmo che mi ha permesso di intraprendere la mia carriera che sinceramente adesso devo dire scusa mia madre perché continuo a girare per le mie passioni, per le mie foto con i personaggi, per le mie maglie. E un po' sto mettendo da parte il mio lavoro, ma bisogna fare quello che senti dentro, credimi. Ok, lavoro che poi ti ha portato a collaborare con una delle emittenti della Valcamonica in maniera continuativa, è noto a tutti che su Telebuario si vede di lo Beppe, Beppe Rota, che mi è bisogno di spiegarlo nessuno, perché chiunque abbia un minimo di cervello e abbia acceso almeno una volta nella propria vita il canale di Telebuario l'ha visto ed è giusto così. Questo ti ha portato però a conoscere una miriade di personaggi. Ma sì, guarda... Allora, io vorrei partire proprio dal basso. Partire dal basso. I primi approcci con chi sono stati? I primi approcci nel cominciare a conoscere il mondo mediatico e i personaggi del mondo mediatico. I personaggi? Mi ricordo che ero una volta a Vertova, c'era la festa da San Marco Vertova, grazie che adesso è scomparso all'amico Nino Mutti, mi aveva permesso di conoscere Maria Canins, la storica, come si fa a non conoscere Maria Canins, da lì ancora le prime foto e così via, le prime interviste, le prime interviste e poi non mi sono più fermato. Ti dico un ultimo personaggio proprio l'altra sera, abbiamo festeggiato la mia trasmissione con la mitica Viola Valentina o l'ex moglie di Riccardo Fogli che ancheerei uscirà presto con un nuovo disco per cui avremo occasione ancora di incontrarci sicuramente con Antenna 2 TV. È nata un'amicizia e ci sentiamo spesso. Giustamente stai mostrando un calendario che è nata l'idea l'anno scorso di fare il primo calendario dei VIP dove io volevo Viola Valentina come testimonial. L'ho sentita al telefono e gli ho detto di tutto quello che ne pensi di Beppe Rota. E così è stato. Lei ha fatto un suo pensiero, un suo pensiero particolare e lì l'abbiamo messa appunto in prima pagina. L'ho voluta in mezzo a una televisione, una televisione vintage e penso che la risposta sia stata positiva. Tanto vero che pochi giorni fa Umberto Tozzi è uscito con un nuovo disco e guarda che in compartina ha messo proprio la televisione, ha messo un'immagine. Per cui non dico che mi ha copiato, però ho avuto una bella idea. Calendario 2015, perciò quello che diciamo virtualmente o fisicamente finisce quest'anno. Beppe Rota, visto dall'amica Viola Valentino. Generalmente io non leggo mai niente, non mi vedete mai con dei fogli in mano, ma questa volta è doveroso farlo. Ho conosciuto Beppe Rota tanti anni fa, ma solo recentemente è nata una bella amicizia. Ricordo in particolare il primo tributo a papà Enzo, una manifestazione del quale io ero l'ospite d'onore, addirittura in quell'occasione mi fece arrivare in carrozza. Beppe è una persona un po' particolare, molto dinamico e sempre attivo, divertente, simpatico e sereno. In questi anni abbiamo lavorato insieme ad un gran numero di eventi, anche quelli più strani e folli. Tutto questo rispecchia Beppe, puntini puntini, genio e follia. Beppe è alla continua ricerca di innovazioni, di proposte e grazie alla sua creatività si inventa manifestazioni sempre diverse e le programma dall'A alla Z. Per il 2015 auguro a Beppe tanta fortuna, secondo me ci sono persone che se la meritano un po' di più e Beppe è proprio tra una di queste. Buon 2015 Beppe Rota e, sempre puntini puntini, buona vita, firmato Viola Valentino in autografo. Allora, questo, partiamo da quel calendario qui. Ok, calendario 2015. Beppe Rota, dedica di Viola Valentino. Il primo mese che scorriamo è gennaio e la prima immagine che vediamo è Belen Rodríguez. Belen Rodríguez, lo ricordo, per chi non fosse del tutto edotto, è stata, diciamo, una scoperta in quel di Teleboario. Infatti, sì, ha mosso i primi passi a Teleboario e poi non si è più fermata, per cui volevo metterla appunto in prima pagina, visto che è stata anche il personaggio del 2015 e gli ho dato questo spazio, giustamente. Poi questa è una foto che io ho scattato addirittura alle 4 del mattino dopo l'Isola dei Famosi, per cui ho queste foto con i personaggi ma non è così facile scattare foto con loro. Un'ultima foto che ho fatto pochi giorni fa con Ian Anderson dei Getrotal, un particolare, mi trovavo a Bergamo tramite un amico, ho saputo dove alloggiava, in che hotel alloggiava. Però io me lo ricordo con i capelli lunghi, con il pizzetto, un po' come sono io adesso, e adesso è cambiato completamente, ha perso un po' i capelli e passo in questo hotel e dico a mia madre, perché la mia fotografa ufficiale, mia madre, ha detto, guarda Ian Anderson, era a mezze maniche, ma ho fatto proprio una battuta, ma non mi sono accorto che era lui veramente. Ho dovuto aspettarlo fino dopo il concerto, c'erano 1500 persone al Kreber di Bergamo e ho scattato la foto all'una e mezza del mattino. Ce l'ho fatta, sono stato uno degli unici, per cui è un'emozione. Andiamo avanti col calendario, ci portiamo a febbraio, Robert De Niro. Robert De Niro qui sembra quasi un nonno, sembra un signore, magari siamo abituati a vederlo, un po' più giovane, o un po' più truccato, in quello che sono state tutte le sue numerose interpretazioni. Come hai fatto a coptarlo? L'ho voluto mettere nel mese di febbraio, perché io febbraio mi reco sempre a Sanremo, mi trovavo all'hotel Royal, per cui saluto l'amico Giuliano. Erano proprio le prime ore del mattino, praticamente, dopo una nottata e così via. è stato difficilissimo, perché questi personaggi, noi che girano tanto per girare nell'hotel, ci sono sempre guardie del corpo e tutto, non è facile convincere la gente, però finora, guarda, non ho mai avuto sinceramente dei problemi, perché forse riesco a farmi amare per la mia spontaneità. Passiamo al mese di marzo, una signora che ormai si può dire metà per metà bergamasca, perché ha preso residenza in Città Alta, ha sposato Trussardi, mi riferisco a Michelle Unziker, svizzera di nascita, ma sicuramente italiana ad aduzione, striscia la notizia, bravissima, eccetera, 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 prima moglie di Ramazzotti, poi, vabbè, ognuno segue la propria strada, personaggio? Un personaggio che piace, perché è sincera, ride parecchio, una persona spontanea, l'ho voluta mettere a marzo, perché a marzo gli compio gli anni, per cui, poi mi piace anche il cioccolato bianco, ho detto dai, dedichiamo questa televisione a Michelle Unziker, per cui la saluto, perché è una persona squisita, nonostante è un vero personaggio. Passiamo al mese di aprile, pare che nel futuro il corpo forestale dallo Stato venga, diciamo, alienato, non alienato, ma accorpato alla benemerita, vale a dire all'arma dei carabinieri. Qui abbiamo un personaggio che tra le varie cose ha fatto anche, chiamiamolo il marescialo o l'ufficiale di polizia a cavallo, inteso come corpo forestale dallo Stato, tutti se lo ricordano nei vari Trinità e nelle varie commedie con Bud Spencer, mi riferisco a Terence Hill. Terence Hill non si dimentica. Massimo Girotti, giusto? Bravissimo. Persona squisita, l'ho incontrato in quel di Milano, è stato veramente disponibilissimo, logico, vedere questi personaggi dal vivo ti mettono un'emozione, tante volte ho paura da prendere un infarto perché il cuore batte a cento e l'emozione è tanta, però quando esce lo scatto veramente se sei contento. Ecco, qui invece un altro personaggio, magari un pochino invecchiato, però sicuramente un personaggio molto amato, magari anche leggermente contestato o leggermente prevaricato, mi riferisco a Renato Zero. Eh, Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, anche se adesso la vita è un po' difficile, proprio l'altro giorno vedevo gente che non riesce più a sorridere, vedo un mondo triste, sinceramente, e Renato Zero non si può dimenticare perché ha fatto delle bellissime canzoni e penso che nella musica italiana e non solo, internazionale, Renato Zero e Renato Zero non si tocca. Andiamo avanti ancora di una pagina, siamo quasi arrivati alla soglia dell'estate con una Cleopatra di buona memoria e la nostra benissimo amata, ben amata Monica Bellucci, un'attrice di altissimo valore sicuramente e anche una presenza femminile notevole. Hai detto bene Monica Bellucci ha un valore inestimabile, poi sinceramente a me piacciono le ragazze more e allora gli ho detto Monica dai su una pagina del mio calendario, un semplice calendario voglio mettervi perché poi continuano anche le amicizie, tante volte mi sento anche con questi personaggi per cui è un sogno che avevo da bambino e adesso essere proprio in contatto penso che sia un coronamento di un sogno. Allora dici bene noi ci stiamo avvicinando alla prima pausa pubblicitaria per cui mi fermo un attimo col calendario e faccio una riflessione dici bene si cementano le amicizie si cementano le amicizie anche con delle semplici conoscenze quando nessuno esce dai binari posso dire una cosa mia personale che mi ha fatto veramente piacere in questi giorni tra i vari ospiti che abbiamo avuto qui ad Antenna 2 e anche nella mia precedente vita televisiva dall'altra parte uno dei sindaci che oggi è ancora diciamo in carica è Sandro Farisoglio di Breno mi ha telefonato una di queste sere per fare gli auguri a me non conosce mia moglie non conosce la mia famiglia però ha esteso gli auguri a tutta la famiglia perché dice sento il Ferrari come un amico ma non perché mi inviterà ancora in televisione sicuramente qui ci tornerà perché su Breno e su quella parte lì della valle ne abbiamo tante di cose da dire pari pari alcuni giorni dopo ho sentito Massimo Maugeri sindaco di Bienno che mi ha ringraziato anche lui per la trasmissione fatta sulla fiera sul mercato diciamo eccetera e un'altra persona che mi dice estendo gli auguri alla famiglia a uno all'altro perché perché ormai si è cementato una conoscenza io navigo in quel piccolo lì tu ovviamente hai a che fare anche con persone di spessore che spesso appaiono su chi piuttosto che su visto o su stop piuttosto che sicuramente da meno su famiglia cristiana è vero è vero un piccolo aneddoto esempio Christian che l'anno scorso l'ho portato per festeggiare le mie 450 puntate proprio nei giorni scorsi era pomeriggio 5 e la gente mi chiedeva ma io quello l'ho visto ti ricordi la serata è bello quando anche le persone sono contente e queste persone capiscono di che spessore come hai detto tu sono questi personaggi ma sono dei personaggi umili a me sinceramente il personaggio mi interessa fino a un quarto mezzogiorno voglio la persona perché Viola Valentino perché è una grande amica perché è una persona che va bene con i bimbi di 8 anni fino alle persone di 80 anni per cui il personaggio per me è quello prima pausa pubblicitaria oltre i confine seconda parte secondo semestre del calendario di Beppe Rota un personaggio sicuramente eccezionale Luciano Ligabue hai detto bene Giacomo Luciano Ligabue non si tocca Luciano Ligabue quello vero con i capelli lunghi perché Luciano Ligabue visto adesso sinceramente non mi dice nulla l'ho incontrato è stata una persona stupenda e niente viva Luciano Ligabue perché ha fatto delle canzoni bellissime ma ci sarà un souvenir che ci ricorderà a certi momenti è bello ricordare Agosto mese feriale mese che la gente di solito pensa alle vacanze un dottore qui non c'è scritto però sappiamo tutti che è un dottore Valentino Rossi un aneddoto su questa foto Valentino Rossi l'ho incontrato allo stadio Tardini di Parma giocava la nazionale cantanti contro la nazionale motociclisti vedo che arriva questo Pullman tutti i motociclisti ci sono però mancava Valentino Rossi ho detto arriverà perché era il capitano dopo 5 minuti io ho aspettato visto che è arrivato con un SUV con i vetri scuri sono riuscito l'unico a scattare la foto il bello che poi sono andato in sala stampa per le interviste mi si avvicina una persona e dice ti do le chiavi del SUV di Valentino Rossi così gli sposti la macchina ho detto ma scusi ma guardi che io non sono con Valentino ma abbiamo scambiato per l'autista di Valentino Rossi e poi lui se n'è andato in elicottero perché è stato impossibile inavvicinabile per cui la mediaticità porta ad avere un sacco di fans un sacco di fotografi un sacco di freelance si chiamano tutti quelli che fanno qualcosa perciò sicuramente c'è un mega sedio e certi personaggi gioco forza che se la devono svignare sì dopo non possono picchiare la mano sulla spalla tutti però ecco tante volte che possono essere personaggi che possono essere attori che possono essere cantanti è logico dall'incontro quell'attimo tu riesci a capire poi una persona tornando su ti ho detto prima appunto di Umberto Tozzi l'avevo conosciuto un po' di anni fa in quel di Seriate non c'erano molte persone eravamo in due o tre mi fa dopo da come si è comportato sinceramente avevo tutti questi dischi di Umberto Tozzi sono andato a prendere quello nuovo però non mi sembrava quella persona che credevo sinceramente perché capisco se ci sono mille o duemila persone ma quando sei in due o tre per una foto ci impieghi un secondo sì voler fare il prezioso oltre misura penso che non sia consono nessuno ma qualcuno deve avere proprio la io lo chiamo malignità nel DNA perché è proprio una questione di sensibilità e se uno non è sensibile a quel punto lì vabbè meriterà rispetto però rispetto anche accantonato bravissimo siamo arrivati a settembre il mese diciamo della vendemmia e qui a quanto pare c'è anche un bicchiere sul tavolo con Laura Pausini sì devo ringraziare naturalmente il direttore Angelo Baiguini un grande amico mi ha fatto entrare proprio negli studi dove loro parlano e mi ha fatto coronare questo sogno con Laura Pausini persona speciale lui mi ha scattato la foto ho conosciuto anche il padre per cui semplicissima ottobre Antonio Banderas molto amato anche dalle teenager bravo ma tu mangi i biscotti del mulino bianco il mattino perché vedi Antonio Banderas allora potrei anche mangiarli e li mangio certamente l'unica cosa che non riesco a fare è collocchiare con la gallina del mio vicino invece lui riesce anche a parlare con la sua gallina hai detto diciamo che questo è uno scatto veramente mondiale unico è stato bello poi ecco con questi personaggi non è facile non è che puoi metterti in pose e puoi scattare dieci foto una se va bene ok mi viene in mente Gio Cluney veramente che sono stato a Milano aspettarlo da mezzogiorno fino alle dieci e mezza la sera alle 22 e 30 incredibile mi è arrivato proprio ma c'erano veramente un migliaio di persone mi è arrivato proprio a filo sì neanche a mezzo metro così via io forse l'agitazione ho gridato George 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 si è spaventato è salito in macchina questa è un però sai aspetti da mezzogiorno fino alle dieci e mezza la sera si è scoppiato veramente l'emozione George 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 e lui ha fatto eh 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 Mario ha preso paura chi lo sa è salito in macchina e se n'è andato nessun problema siamo nello spazio guardiamo le stelle da vicino ammiriamo la terra e ci viviamo per alcuni mesi mi riferisco a Samantha Cristoforetti anche questo scatto è difficile adesso Felix voleva sapere come sono riuscito a scattare la foto con lei prima che entrasse nello spazio è vero non poteva scattare foto perché era in divisa allora io ho giocato la mia carta ma sincero come sempre ho detto scusa io ho fatto il militare nell'aeronautica non posso non avere una foto con te quando gli ho detto così sono riuscito a scattare la foto con Samantha per cui bella emozione anche questa dicembre il mese in cui in questo momento noi stiamo chiacchierando il mese per noi credenti o quantomeno per noi tra virgolette occidentali è il mese del santo natale dell'avvento dell'epifania dei re magi non poteva mancare un personaggio diciamo religioso suor Cristina si suor Cristina sono riuscito a contattarla tramite il convento delle suore di Milano e così via e siamo riusciti appunto a scattare questa foto per cui giustamente come hai detto dicembre è un mese speciale e volevo mettere un'immagine una volta ogni tanto ci dobbiamo ricordare anche delle persone che stanno sopra di noi allora abbiamo concluso il nostro calendario 2015 ci apprestiamo ad arrivare al 2016 qualche anche solo un'anticipazione dei 12 mesi ma sicuramente ho iniziato 2015 e voglio continuare sono rimasto ho detto facciamo un calendario sui politici ma a me la politica non piace sinceramente che calendario faccio sull'atletica ho detto facciamo un calendario sulle persone che sono scomparse perché non ci ricordiamo che queste hanno dato tanto e volevo prendere un altro testimonial ho contattato l'amico Francesco Cerbi sappiamo tutti il problema che ha avuto è tornato appunto a giocare e voi l'avete l'avete seguito anche nel mio studio è una persona squisita tra l'altro Francesco gli ho donato un braccialetto verde gli ho detto tornerai in nazionale è tornato in nazionale tornerai a fare il gol è tanto vero che proprio ieri ha fatto un gol è nata un'amicizia ancora più sostanziosa e ho voluto mettere lui sul calendario e il 17 o il 18 di dicembre adesso questo è da vedere comunque confermato verrà parlerà del suo libro è uscito con il suo libro e questo calendario è dedicato alle persone che sono scomparse per cui il titolo è io vi ho ricordato io vi ho conosciuto così ecco scusami qualche non lo so vuoi che ti dica prima pagina naturalmente nel mese di gennaio ci sarà Mino Reitano conosciuto più volte più anni a Sanremo anche proprio gli ultimi giorni la sua forza di vivere mi ha contagiato sinceramente e l'ho voluto dedicare a lui ci sarà Marco Pantani perché a febbraio verranno i genitori di Marco la mamma Tonina e papà Paolo siamo stati 15 giorni fa in quel dice genatico mi hanno mi hanno detto appunto questa questa promessa e verranno e ci sarà scusami anche naturalmente la moglie di Mino Reitano e il fratello e ci saranno tanti tanti personaggi da Little Tony da Maurizio Mosca e poi basta mi fermo qui così sicuramente vi regalarò questo calendario la curiosità sarà poi sapere la completezza dei 12 mesi ok chiudiamo col calendario e ci trasferiamo fisicamente idealmente per 5 minuti a Sanremo solo un secondo ecco questo calendario il primo l'ho dedicato alla mamma Francesca la mia fotografa e il secondo voglio dedicarlo a mia nonna mia nonna Nina che l'ho chiamata la nonna nazionale visto che mi ha portato bene quando sono stato i fatti vostri ci sarà anche Gigi Sabani e per cui e poi chiudiamo su questo giustamente come dici tu a marzo uscirà finalmente il mio libro prefazione di Bruno Pizzul la storia e basta così ok adesso invece arriviamo al discorso di Sanremo tu lo stai seguendo da tantissimi anni come succede a lei c'è appostamenti appostamenti a dismisura o colpi diciamo colpi di sedere per riuscire a fare la foto o per riuscire ad avere l'autografo saremo una vitaccia e non dimentico la frase che mi ha detto qualche anno fa l'amico Carlo Conti dice Beppe se tu non vieni a Sanremo non esiste più non vai no cioè questa amicizia logicamente fa una battuta lì vivo una settimana ma una settimana da incubo e vi dico che per prenotare l'hotel a Sanremo devi prenotarlo un anno prima una domanda che ti pongo a te Giacomo sai quando io prenoto l'hotel? beh me l'hai detto adesso un anno prima per cui penso da marzo a marzo o da febbraio a febbraio? sinceramente il giorno prima questo mi fa mi fa piacere qualcosa qualcosa magari di libero non lo si trova no sinceramente vado sempre nello stesso posto però la signora dice vai voi siete amici e poi ecco posso salutare se mi sta seguendo anche Sor Antonietta Sor Antonietta Giudici che io l'ho conosciuta proprio quando facevo le scuole alle figlie della sapienza lei naturalmente faceva l'insegnante di educazione fisica nell'ora di educazione fisica ero io l'insegnante questa amicizia è sempre durata vedi cioè io sono un tipo che le mie passioni ho iniziato da bambino le sto portando avanti adesso non è di che mi innamoro della pesca vado un anno a pescare l'anno dopo vado a giocare a bocce no le amicizie durano nel tempo e questa è anche l'amicizia che io ho con Antenna 2 Sor Antonietta io l'ho conosciuta ho lavorato per l'istituto figlie della sapienza per oltre un ventennio per cui è una delle persone con cui ho avuto spesso e volentieri che fare anche solo incontrandola per corridoio ricordo e questo è solo un aneddoto che proprio in quel di Sanremo a quei tempi loro possedevano un'altra casa io non so se c'è l'abbia tuttora tuttora comunque come erano allocati a Clusone erano allocati anche a Menaggio erano allocati a Zero Branco in provincia di Treviso a Torino a Cornale di Prada Lunga a Gorno e anche in quel di Sanremo anche Sor Lucia devo salutare tra ricordi la sora con le macchine da scrivere da tilografia mitica mitica ma altro che mitica vabbè Tiromi Nans Sanremo si arriva si alloggia e poi ci si apposta si metto solo i bagagli docettina e poi torno sempre parto al mattino presto al mattino per tornare la notte praticamente guarda dormirò non di più due o tre ore a notte perché poi alle sette scarpettine vado a far footing perché incontri sempre Gianni Morandi e tutti questi personaggi sulla spiaggia per cui corro col marsupio dentro la macchina fotografica scortati o diciamo in libertà si quando allora quando corrono si al mattino sono sempre figurati il pomeriggio inavvicinabili ormai allora ti parlo per per le esperienze per i gressi perché oggi come oggi che Isis mi è Isis eccetera eccetera magari può essere un po' più pesante parliamo degli anni scorsi che magari quel tipo diciamo di idea lì non c'era in testa hai detto bene le guardie del corpo ci sono sempre scortatissimi mi viene in mente una foto che ho scattato esempio con Lorela Albertè incredibile tre giorni e lì non sono andato proprio a dormire per riuscire a fare una foto con lei e non sono riuscito neanche a farla mettere in posa perché Loredanna Bertè ecco sappiamo però alla fine ce l'ho fatta per cui sono super scortati non è così facile come come dicevo poi quando arrivano dei personaggi proprio di calico internazionale quest'anno c'era la roccio Morales tutti i personaggi vallette non vallette dipende sempre che personaggio sei ecco questo è fondamentale per cui viva Sanremo perché il 9 si parte ho visto oggi il 9 febbraio ragazzi è già ora nel tuo carnet Adriano Celentano come fai a sapere lo manca quello ah manca ma non ho mai avuto occasione di incontrarlo però ti parlo di qualche annetto fa che ho chiamato il prete del paese dove lui risiede so che tutte le domeniche mattine lui va a messa però momentaneamente non sono ancora non ho riuscito non ci ho pensato ad andare a avvicinarlo ma ma presto ce l'ha fatto un'altra foto che purtroppo ho perso in quel di Sanremo qualche anno fa che ero ancora qui con Vasco Rossi mi trovavo all'hotel Royal era mezzanotte con un amico un fotografo di Piacenza mi sono messo a parlare con Elio le storie tese e a un certo punto lui mi dice ho scattato adesso la foto con Vasco Rossi ma dov'è ma dov'è ma dov'è è salito e allora io non sono andato a dormire e mi trovavo con un amico alle 9 un quarto del mattino si apre l'ascensore ho detto questo è Vasco Rossi invece ho fatto la foto con Hugh Grant per cui calibro internazionale Vasco Rossi è uscito la sera alle 17.30 col suo cappellino verde ma con le sue guardie al corpo tra lui solo a dirti roccia la sua guardia al corpo roccia capisci di che stazza è inavvicinabile però vedrai Vasco che una volta andremo a Zocca ma arrivieni anche tu Giacomo e riusciremo a colpirlo tornando indietro un attimo su Adriano Celentano un uccellino a me caro mi ha detto che nei paesi lì circonvicini a dove ha la residenza tra Lecco Como quel che l'è spesso e volentieri va a giocare a 3-7 in alcuni bar bisognerebbe riuscire a scoprire dove va a giocare a 3-7 e so che ci gioca con gli anziani del paese non è che sia poi molto giovane neanche lui adesso è vero si può considerare diciamo in quella in quella cerchia lì e so anche che c'è un aneddoto dicono che sia poco propenso quando perde a pagare i famosi calici perché a quanto pare sempre per sentito dire deve avere il braccino abbastanza corto un po' corto un po' corto quello è vero oppure Sanremo lui risiede alla Bordighiera nell'edizione scorsa cioè no quest'anno è stato febbraio appunto sono andato perché avevo puntato su Romina Power Albano le foto con Albano ne ho parecchie gli ho portato un vecchio disco e mi ricordo che alle 18.30 è uscito Albano e mi ha firmato questo disco fa dammelo a tutti ho detto no collezionismo non posso assolutamente aspetto Romina Power che è rientrata alle due e mezza del mattino anche lei mi ha firmato questo disco a un certo punto vedo dei ragazzi nell'hotel e sento una voce ho detto ho sentito ancora questa voce guardo era Biagio Antonacci sono riuscito a scattare la foto con lui al mattino mi recco in edicola e vedo che è uscito uno speciale su Albano e Romina Power apro questo giornale c'era proprio il disco uguale a quel disco che è intitolato Felicità con i loro autografi per cui io vivo anche di cimeli come dici le carte da gioco dei 3-7 che gioca Adriano Celentano autografate sarebbero un massimo prima la foto però prima la foto Mina un'altra inerraggiungibile mi stai dicendo dei nomi quella ormai è autoreclusa difficilissimo nella confederazione quello non ci penso nemmeno sinceramente non si muove però effettivamente non è che gli do torto come ti dicevo vedo questo mondo un po' particolare si rintana in casa però è uscita effettivamente con dei dischi speciali Mina è introvabile però non fammi pensare e nel calendario 2016 ci sarà anche Lucio Dalla come dimenticare il grande Lucio Dalla ho visto che è stata omaggiata e ringraziata per gli ambrogini d'oro in questa settimana in quel di Milano evidentemente anche l'amministrazione attuale o chi fa parte di quella ha ritenuto opportuno omaggiare una grande anche se una grande diciamo un po' in ritiro un po' in ritiro monastico noi invece ci ritiriamo per la seconda parte pubblicitaria grazie terza e ultima parte di questo Oltre i confine sempre con Beppe Rota allora i nostri telespettatori sanno che io non sono una persona che ama prepotentemente l'attività sportiva o il calcio a me piace passeggiare e basta però sono ovviamente soddisfatto quando sento a dire nel mio piccolo la squadra locale e intesa come Atalanta oggi ha vinto domani ha vinto l'altro giorno ha pareggiato non è che mi ramarichi quando perde però mi sta bene che vinca infatti Beppe ha in mano una bandierina dell'Atalanta sì infatti sono stato ospite grazie a Lisa grazie naturalmente a Matteo grazie a Paolo Tintori che mi hanno dato questa opportunità sono stato praticamente ospite a quelli che è il calcio è finita la la trasmissione questa bandierina me l'ha firmata Nicola Savino il conduttore di quelli che è il calcio sono iscritto a scattare le foto con loro e ho fatto un pronostico proprio prima della partita dicendo che l'Atalanta vinceva 3 a 0 e l'Atalanta ha vinto 3 a 0 cioè fare un pronostico del genere non è così semplice per cui sono un po' un portafortuna come lo siete voi neanche il mago d'Arcella riusciva a fare queste cose meno male che adesso abbiamo il nuovo il nuovo chiromante il Beppe non chiamatemi però non chiamatemi per prevedere il futuro perché le divinazioni future passano dal Beppe Rotta hai detto bene allora vicino alla bandierina ho visto che ci sono i guantoni da box sì perché ho detto magari Giacomo oggi vuole fare un incontro di pugilato e perdo io porto i guanti così sono sicuro di vincere no a parte gli scherzi non ho mai litigato con nessuno un particolare qualche giorno fa ero in quel di Bolgare ha chiamato mamma Francesca non avevo il telefonino e questo personaggio questo pugile veramente dice io mi trovo a Milano voglio portare a Beppe un mio cimeglio e così via è venuto e partito da Milano apposta è arrivato a Bolgare e mi ha portato questi questi guanti che con un saporino ancora sono erano in cantina secondo me cioè sono passati dall'anno 90 ha vinto anche gli europei ha vinto tanti titoli però è bello avere anche questa collezione perché non è solo calcio ma collezione tutto lo sport è veramente dal rugby dal pugilato dall'atletica tutto quello che vuoi dall'ipica l'importante è fare movimento perché movimento serve specialmente quando si sale di età quando il parla e il disse o est o il Beppe Rota ah che il col qui che il col sempre sulla strada ma le che il cagano anche tante maglie sì ma non è che abbia le maglie perché deve mantenersi e io gli auguro tanta salute non sono maglie della salute ma sono maglie diciamo omaggi ricordi collezionismo io prima a microfoni spenti ho detto mi sembra che tu ne abbia più di 5.000 ma hai detto no un po' più della metà ecco un po' più della metà significa 2006 2007 2008 sì non le conto più sinceramente perché da parecchi mesi mesi che continuano tutte catalogate tutte sistemate sì 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 ormai la mia stanza ho preso un appartamento apposta per le maglie è bello vederle però il mio sogno sinceramente lo dico da tempo il mio sogno è quello di realizzare un museo un museo con le maglie un museo dello sport dove i ragazzi delle scuole possono incontrare il personaggio ogni settimana l'incontro con il personaggio e poi possono vedere appunto tutte queste tutte queste maglie raccolte nel tempo da quando ero bambino fino per cui questa è una delle ultime donata da Stefano Tacconi hanno fatto una partita benefica in quel di Darfo Boario Terme c'era Tacconi Gallia Vignola Briaschi Bodini Tavola Tanti personaggi e mi hanno voluto donare la loro maglia qui ne ho portata una naturalmente subito dopo la partita vengono lavate perché non mi piace poi tenere le maglie c'è chi le colleziona vedi qui durante durante la partita con gli aloni che gli so sande il nasto e chi la urca no adesso non arriviamo a questi livelli cioè non è una divisa militare che uno dice l'ho raccolta sono un capo di battaglia no e non è che la possa lavare e sterilizzare la tengo per il museo qui in tutti i casi vengono lavati e sistemati ebbene e anche Stefano Tacconi ci siamo trovati poi al ristorante mi ha firmato una tazzina una tazzina del caffè per cui il personaggio beve il caffè quando ho finito mi lascia il cucchiaino piattino la tazzina con la dedica beh però sommata però io sono così ecco ma il caffè l'alpaga lui o te no ecco anche tornando anche a Sanremo bella l'idea mi ricordo un'intervista con Chiambretti e mi dice scusa posso farti un'intervista e mi fa se mi paghi il caffè vuole dire cioè Chiambretti cioè delle cose incredibili continuiamo 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 ecco visto che abbiamo parlato di guanti di pugile e così via questo naturalmente un piatto anche questa una nuova idea questi piatti autografati dal personaggio abbiamo parlato l'ultimo personaggio che è uno degli ultimi personaggi Viola Valentino ha firmato anche questo piatto con tanta amicizia amicizia vera Viola Valentino e per cui saluto anche tutto lo staff perché sono venuti con i coristi cioè effettivamente avevo chiamato solo lei è venuta con i suoi coristi è venuta con il chitarrista ma non da due passi sono arrivati addirittura da Genova da Cremona da Voghera per cui ci tenevano a questa festa e hanno capito un po' la persona che sono naturalmente per l'occasione mi ha donato anche questa maglia questa maglia autografata firmata te la ricordi Viola Valentino quando era un po' più giovane cioè ha fatto delitto sull'autostrada con Romy Williams ha fatto tante cose e per cui naturalmente ecco mi piace una cosa io ricevo ma dono anche ma in nulla ho preso così per caso mi piace dare un mio ricordo e lo ricordo così io vado avanti questo questo è l'importante eccoci qua parlando di musica degli amici chi non conosce i nomadi o vagabondo crescerà imparerà e l'amico Augusto Daoglio ho incontrato la compagna di Augusto e presto ci sarà anche lei per cui l'anno prossimo preparate le telecamere che riusciremo naturalmente a coronare questi sogni e l'amico Daniele Daniele Campani il batterista e mi dice no Beppe voglio anch'io partecipare alla tua collezione di cimeli e tutto sono andato a praticamente un concerto mi hanno dato la maglia ufficiale dei nomadi con tutte le loro firme con la loro dedica firmata vedi semplicemente come sono i nomadi perché quando vai ai concerti salutano tutti queste sono persone veramente umane e volevo anche loro contribuire a questo per cui grandi emozioni devo ringraziare il maestro Cattano Giovanni che qualche giorno fa mi ha donato la maglia dell'Atletica Sovere perché quando ero un po' più giovane e guarda nell'84 sono stato campione provinciale anche nell'89 campione bergamasco ho avuto tanti successi anche alla Cinque Mulini San Vittore Olona e per cui mi ha voluto portare un po' la canottiera dell'Atletica Sovere la prima maglia poi ho avuto l'occasione anche di essere nell'Atletica Comeli dei tempi di Francesco Panetta per cui grandi emozioni e sono rimasto sempre fin quando poi l'Atletica Sovere si è sciolta la Comeli non è più esistita sono andato all'Ari Castello Gazzaniga e adesso sinceramente anche l'Orezzo l'Orezzo di Gazzaniga l'Atletica Orezzo e grazie a questa società sono stato ti parlo ero allenatore più giovane 15-16 anni a Formia una settimana con il raduno Club Italia con Sara Simeoni per cui di emozioni ne ho avute tante continuiamo mondo dello spettacolo mondo dello sport bravo bravo sinceramente sì questa è una maglia una partita che hanno fatto i vintage del Darfo Boario Terme qui ci sono dei grandi campioni anche loro hanno voluto autografarla tutta per cui ecco sinceramente io ho maglie dalla serie A sino alla serie C poi possono capitare queste maglie di dilettanti però io ricevo tutto ci mancherebbe me le donano con il cuore per cui saluto anche il capitano Pierluigi Galli e grazie anche a Orietta che è riuscita questa è una partita che è stata fatta alcuni mesi fa a scopo benefico per l'iniziativa di quei due fratelli che sono stati bruciati hai detto bene contro la Juventus e stanno raccogliendo dei fondi per la realizzazione dell'oratorio esatto esatto poi questa maglia un ragazzo giovanissimo che ha vinto parecchi titoli questa è una maglia di moto e anche lui mi è piaciuta la dedica che ha fatto e dice da Nazareno da Nazareno Lumina che non viaggia mai in prima ecco questa mi è piaciuta sinceramente questa frase glielo ho detta io e lui gli è piaciuta e l'ha voluta mettere sulla maglietta mi piace fare anche queste rime bella questa donazione qui è un po' come un offertorio sì 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 no no ma andiamo avanti eccoci qua eccoci qua tanto vero guarda vediamo tutta la merceologia tutti i prodotti bravo dei sindaci ieri mi ha chiamato il sindaco di Montisola anzi se lo ospiti è una persona che ha tante risorse anche lui Fiorello Turla e dice se passi ho una cosa da donarti ma io so già te lo dico Fiorello lo so già che sarà la maglia dell'Inter per cui mercoledì vengo a trovarti questa è una maglia di un grande campione ma soprattutto amico Luca Berlinghieri è la maglia attuale del Modena serie B lui ha militato in parecchie squadre come Albino Leffe ha militato nel Livorno parecchie squadre nell'Ascoli e voleva naturalmente farmi una dedica per le mie 500 puntate bello 5-0-0 500 volte ma per me Giacomo credimi è l'importante quello che scrivono tutto rimane per cui a brevissimo proprio in questi giorni andrò a Verona perché un altro mio amico nel mondo del calcio è Sergio Pellisset attaccante del Chievo la storia la bandiera ha già pronto la maglia e come naturalmente allenatore dell'Inter primavera Stefano Vecchi ma dovrei farvi un elenco e non mi piace questo vi ringrazio tutti una squadra ciclistica Beppe Corsini Marco Corsini anche lui grande campione ma ha voluto fare appunto queste queste dediche queste dediche sono belle che ne dici no tutte queste dediche fatte con il cuore avanti indietro su questa maglietta vedi la maglia del ciclismo è sempre un po' miserina rispetto a quella del calcio però e vabbè no una maglia esempio che non scordo è la maglia che mi ha donato anche Pierino Gavazzi un po' la storia Paolo Savoldelli e tanti altri Beppe Guerini Beppe Turbo Guerini sempre nel mondo del ciclismo come ti dicevo sono stato in quel di Cesenatico e questa maglia me l'ha donata addirittura il papà e la mamma di Marco Pantani che poi ospiteremo e non si dimentica per cui nel calendario Marco c'è e Marco a mio avviso l'hanno fatto fuori questo è un mio pensiero magari non tutti la pensano così però sinceramente e poi è arrivata anche questa maglia di un grande motociclista subito è tornato da poco da Berlino ok e me l'ha donata per cui non ci fermiamo più prima parlavamo solo di calcio poi siamo andati nell'atletica poi nel ciclismo adesso moto e prendiamo di tutto pugilato non lo so se qualcuno mi vuole aiutare entrerà tutto nel museo allora tu prima hai detto marzo massimo aprile esco con il mio libro sarà un piacere averlo sarà un piacere leggerlo io a mia volta ho l'incarico e anche il piacere poi fuori dalle telecamere te lo consegno io ti consegno un libro fatto dall'amico Claudio Rota briciole di ricordi un libro che parla di montagna che parla anche di personalismo che parla di un simpatico cagnolino che si chiamava Cico e tante altre belle cose compresa l'amicizia che Claudio Rota ha con Monsignor Loris Capovilla poi sarà mia premura ce l'ho la foto con Loris Capovilla ce l'ho sarà mia premura a darti il libro in modo che tu lo possa mettere tra i tuoi cimeli al limite se vuoi approfittare per non farlo indirettamente puoi già ringraziare il signor Claudio Rota del dono ma sicuramente eviti di mandargli dei bigliettini io so che lui lo apprezza moltissimo e voglio anche il tuo autografo perché se me lo doni va bene farò l'autografo ad anche me i me cambiai i giamai un urad e perciò la mia è una firma che l'ha al di Sol torniamo un attimino invece al Beppe Rota diciamo terra terra in quel di Sovere matrimoni ne fai ancora? servizi fai ancora qualcosa? sinceramente sì ne faccio ne ho fatti parecchi anche a personaggi perché si deve pur vivere bisogna vivere ma sinceramente credimi io adesso sto vivendo per queste cose bisogna vivere la cosa che mi piacerebbe un giorno l'ho detto e lo ripeto partire con un camper e andare in giro per l'Italia fare le mie mostre durante anche l'estate ho avuto quest'anno delle belle soddisfazioni abbiamo fatto la sfilata con i giocatori del Palermo con i giocatori della Sampdoria abbiamo fatto il Milan Primavera abbiamo fatto il Brescia abbiamo fatto Atalanta ne abbiamo fatto una bellissima in quelle di Rovette per cui certo bisogna vivere i matrimoni li faccio ancora per cui se qualcuno ne ha bisogno l'ho fatto anche questi personaggi Paolo Tramezzani Beppe Biava Luca Berlinghieri ma poi adesso non stiamo a fare un elenco però è bello il mio lavoro mi piace mi permette di avvicinare queste persone che magari pensavi fossero inavvicinabili e giustamente come dice Felix dice non preoccuparti che adesso non si tirano indietro anche voi avete siete venuti a riprendere l'amico Ivan Cattaneo pochi giorni dopo vado a riprendere un altro personaggio e un giovane mi dice un giovane mi dice ma scusa mi ho sentito Ivan Cattaneo mi ha detto che è venuto nello studio si è trovato bene e mia madre aveva preparato un buon dolce la massa cioè la massa è un dolce tipico e vedi potremmo essere ospitati anche noi così è iniziato questo tour però giustamente non è facile creare creare il tutto ti dicevo prima avevamo portato anche Christian ma non solo l'anno scorso ci sono stati anche i camaleonti l'amico Livio Macchia è dura sto facendo un tour veramente e poi gli anni sai gli anni passano con più miei menta in Giacomo sinceramente beh penso e immagino che tu sia tra i 45 e i 50 44 44 e beh allora ho canato di un anno quanti chilometri al giorno? media 10 10-12 chilometri al giorno una volta ogni tanto ci si incontra una volta ogni tanto con la tua pandina quante volte ti ho detto Giacomo questo fatto la tua semplicità è quello che mi è piaciuto col tuo bigliettino semplice non dimentico io cerco sempre di stare e vorrei sempre stare con i piedi per terra mi dà fastidio quando vedo certa gente che fino al giorno prima ti ha salutato e poi dopo solo perché ha avuto chiamiamolo una fortuna piuttosto che un avvenimento ed è riuscito ad andare da una parte piuttosto che dall'altra non ti saluta più per strada io posso dire un esempio lo posso dire ad alta voce io mi fermo spesso e volentieri a chiacchierare con il nuovo rettore dell'università di Bergamo Morzenti Pellegrini ciao te ciao me come ste come non ste ha iniziato anche lui Antenna 2 senza tazze problemi senza tazze laur perché lui è arrivato a fare il rettore il magnifico rettore e io gli ho fatto tantissimi auguri però è bello anche fermarsi per strada poi parlando magari della chiesetta di San Lucio piuttosto che del fontanino della mamma per essere qui nel localismo senza bisogno di essere degli estranei lui fa la sua vita io faccio la mia o mi ha capito perché fa per la strada angade ardas ecco metto che io segui i tchinchini i tchilorle i madafastode come mi dà fastidio l'ho già detto e lo ripeto il fatto che qualcuno voglia inoppinatamente prevaricare le nostre tradizioni ho capito che non si possono più mangiare gli uccellini con la polenta non si può più fare lo spiedo bresciano con gli uccellini non si può più fare la cena nel ristorante però non capisco il perché io non possa e non debba farmi il presepio in casa o fuori casa o nell'attrio della scuola visto che siamo in un contesto secondo me civile e che non dà fastidio a nessuno la chiudo lì per non essere più polemico di tanto perché me la pensi se non è veramente così manteniamo le nostre tradizioni manteniamo lo stanno facendo anche con la pubblicità con la pubblicità stanno mettendo il dialetto dappertutto sui prodotti dolciari sui prodotti da forno addirittura sui prodotti su una nota bevanda a livello mondiale perché perché hanno capito che il localismo tante volte paga io l'ho detto tante volte gli emittenti locali servono per il localismo servono per sentire parlare ancora un attimo in Bergamasco in Bresciano in Milanese in Cremonese o in Veneto o in Manteressa mia che dialetto però permettetemi di non togliermi almeno anche quel pezzettino lì sono alle mei che inserano i foto o il cadenas arrivederci e grazie come dico sempre a me quando mi andai di stare con con la mucca e raccontavamo è vero non dico da tornare a quel livello però forse con con tutti i mass media e così via abbiamo migliorato ma non so fino a che punto con tutti i telefoni lo è manicomio è bello essere sinceramente non ho paura a dirlo io il computer l'ho acceso tre secondi e l'ho spento non mi interessa niente e vivo così e sto bene così ok e voglio continuare anche se a 15 anni riuscivo a utilizzarlo non mi interessa vivo così non dobbiamo essere tutti uguali per cui bisogna essere sempre se stessi e è bello come hai detto non quando c'è la telecamera e ti saluto e ti faccio mille complimenti e quando poi io ti vedo ti vedo in giro faccio finta da non vederti noi siamo arrivati alla fine alla conclusione sembra sempre lontano il tempo ma 3-17 minuti passano in fretta passano in fretta con gli amici con chi ha voglia di mettersi in gioco e fare una chiacchierata ed è proprio il bello di queste trasmissioni chiacchierare chiacchierare terra a terra oltre confine senza bisogno di sconfinare più di tanto auguri di Natale auguri di buon anno auguri di buona Befana perché dopo lì i Befana e i Re Maggi e come si diceva sempre At Maiora grazie a voi e niente ci vediamo Maria Marzo con il mio compleanno con questo libro dedicato al Papa Enzo grazie Antenna grazie a tutti grazie a tutti